bene ragazzi benvenuti a un nuovo video oggi siamo qui su minecraft allora ragazzi volevo avvisarvi che già ho una vanilla diciamo non proprio vanilla però una sopravvivenza lunghissima che ho fatto sulla playstation ho 34 diamanti e molte risorse quindi ragazzi se volete una serie della playstation ve la porterò scrivetela qui nei commenti allora ragazzi dopo aver visto tutti questi cose qui sono tantissimi adesso faremo un nuovo mondo mondo in survival aspettate cosa è successo se vedete è scritto bene perché io tengo la 1.16 la nuovissima versione di minecraft allora quindi questa bonus 4 tranci trucchi disattivati rigenerazione immediata non puoi sapere niente e mostra coordinate diffusione fuoco no il tritolo esplode no rigenerazione naturale lascia blocchi rigenerazione naturale ok possiamo iniziare se volete una serie già ve l'ho detto perché ragazzi io vi consiglio di scrivere qui sotto nei commenti aspettate ragazzi nulla vi consiglio sotto qui nei commenti di scrivere che io voglio fare una serie perché ragazzi io vi consiglio solo perché io ho già fatto dei video li devo solo caricare quindi se voi mi fate il piacere di dirlo almeno vi porterò una serie sulla playstation che vi devo dire non è male abbiamo ripeto 34 diamanti quindi cosa potremmo fare con 34 diamanti se non creare cose nuove andare a sconfiggere l'ender drago quindi ascoltatemi scrivetemi nei commenti ragazzi allora hanno modificato il boscello di come vedete sopra dove stanno gli fps abbiamo beta 1.16.0.57 e vabbè le altre cose stavamo subito il mio telefono ok possiamo spaccare questa cassa se ce l'abbiamo notte allora facciamo altro regno e penso di cesta per vedete che costruisco le case è tipo velocissimo non proprio veloce però le costruisco proprio in pochissimo tempo perché io non lo so però tipo ho preso un bot che mi fa fare delle cose proprio velocissime quindi non dite che ho già le hack devo fare questo tutto una graffi in table tra poco faccio la casa quindi guardate come costruisco le cose allora palo ok facciamo inizio facciamo la terra e poi facciamo questo facciamo così e poi ragazzi mi serve scusate se no la sto costruendo povera c'è proprio il vero l'altro regno e vabbè c'è l'altro regno e vabbè ok ho fatto un culo dobbiamo per forza mettere un blocco qua togliere questo metterlo qua e fare così poi dobbiamo prendere l'altro regno ragazzi avete visto in pochissimo tempo costruendo questa casa diciamo sì ragazzi alcuni di voi scriveranno vabbè ma che ci vuole c'è una casa piccola sì ragazzi è una casa piccola però io avete visto l'altro regno che non vedo questi lupi c'è 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 adesso adesso possiamo fare così poi poi è che serve Fai 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 c'è un'amore il resto è fatto solo questo giuro sono svuotato e i albergo non vedete con questo bot posso scavare a blocchi che minecraft normale non me lo permetterebbe guardate posso anche no forco schifo siamo così e tre porte tre porte poi così facciamo questa facciamo così poi mettiamo qua facciamo così poi uno due uno e due vediamoci le coordinate 52 64 13 52 64 13 52 64 e 13 coordinato e salvate e adesso andiamo a riflessione bene allora sabbia sabbia forse non me ne dovevo salvare sempre nei commenti dite se è bella la metti Alex modificato ovviamente questo Alex io l'ho modificato la playstation però visto che l'account è quello della playstation si è modificato anche qui sul telefono gioco anche con la tastiera al playstation direi che basti così 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 ma speriamo il carbone che abbiamo anche l'uomo visto che ci siamo qui bisogna nemmeno proprio una caverna scaviamo facciamo la torna 1 2 3 4 1 2 3 4 possiamo fare la torna 1 2 3 4 togliamoci qua togliamo con le torce dobbiamo mettere dentro forse possiamo fare così 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 poi io adesso ho fatto la torna ok e vabbè mettiamo nemmeno qua bene 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 poi così e facciamo una fornace mettiamo la fornace mettiamo la fornace sempre questo allora mettiamo questo e poi mettiamo questo questo mettiamo qua e la sabbia intanto intanto visto che facciamo così no facciamo così così e facciamo una bella sto dicendo 3.000 volte così io non c'è letto torno ma perché nell'inventario basta allora io la metto qui ce l'hanno prima no la mettevo guardate faccio così me la sposta nell'inventario già proprio l'ho messa per qua me la sposta nell'inventario vabbè facciamoci domande eh ok allora vedete se non ci credete che sono la 1.16 potete vedere qui aspettate che ci sono le torce di questo colore scusate scusate se dico di questo colore ma io sono dal tonico quindi eh di questo altro colore il fallo e è pure il fuoco cioè gli acciarini non hanno il colore però tu devi metterli sulla sabbia delle anime che non è aspettate ma si è buggato? perché c'è una freccia ma la sabbia non c'è ok che bel bag aspetta che ci sono bella patatina fredda può mancare mai che cosa facciamo? però che cosa facciamo? e cosa è un cabellino? e cosa è un cabellino? bello sentite così che siamina ecco qua una volpe furba avete sentito? sono tornando prima avete sentito? mi sto cagando addosso che si bugga sempre questo che c'è? vediamo la mappa ho sentito che rumore ho sentito? oddio avete sentito? mappa giuro che io non ho installato nessuna musica niente sound ho sentito il gioco per fare un video oddio sentito un altro sonoro vado di chi sono quei piedi? ma ma che cazzo sono scomparsi ma vi giuro che non ho amici c'è gli amici c'è l'ho ma non vengono su minecraft comunque farò una caverna pieterci sono sulle fuori di una mappa senza da l'uomo si in non no no è l'uomo non 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 Grazie. No, avete sentito Spero? Qui Tantos possono anche ballare si può. Guardate. Guardate, saluta. Un po' di paura da me. Un po' di paura. Un piccone, un piccone così. E la spada in pietra. Un po' di paura. Un piccone. 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 ok 16 torce con questo ragazzi buon mio ok vediamo il livello facciamo fuori dei nardi facciamo fuori dei nardi cercate qui c'è un'altra parte guarda, aspetta, è dietro il livello aspetta oh no allora, vieni a fare una cosa con la casa lontana con l'apertura della corda e allora, vieni a fare così ah no, mi serve una traccia prendiamo no, ah via va bene ok non possiamo carbonella vabbè facciamo questo ti prego almeno non scopo non 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 ci potrebbero essere ma veramente che forse mettiamoci il piccone in ferro avete? quel rumore lo conosco basta no no non morirò conosco non è normale avete visto non è normale è impossibile che l'abbiano aggiunto su minecraft non è normale è normale oddio ok ragazzi scusate perché era un minuto ok allora continuiamo ok eccomi ho preso due d'oro ok eccomi questo è un minuto io l'ho già sentito da qualche parte guardate è continuo ok ragazzi devo concludere il video ci vediamo al prossimo video scrivete nei commenti se volete la serie su minecraft ps4 ciao 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 ciao